Qual è la prima cosa che hai pensato quando hai visto la sceneggiatura? Hai detto mi hanno chiamato per fare questo film. Hai letto la sceneggiatura e hai pensato hanno scelto la persona giusta oppure no? Cos'è che ti ha confermato che hanno scelto te e la persona giusta per fare questo film? Io quando l'ho letto l'ho trovato molto vicino a quelle che sono le tematiche, ho sempre esplorato in tutti i miei film e l'ho sentito subito come il film mio. Ovviamente con un po' di sano cinismo romano, poi mi sono detto beh, però adesso a me mi chiamano perché obiettivamente sono il regista giusto per fare questo film. Poi dopodiché loro faranno di tutto per impedirmi di farlo. Cosa che invece non era veramente un pregiudizio. Non è successo io oggi che rivedo il film, lo sento come un film mio. E perché contiene tutta una serie di elementi che lo avvicinano obiettivamente a quello che ho fatto. E c'è un elemento comunque che richiama appunto di altri due film che è il rapporto maschile, in qualche modo, che sfiora la rivalità, ma è quasi l'amicizia, la complicità, con dei valori morali che poi alla fine attraversano il bene e il male, non senza in questo ambito un po' grigio. Quindi come li hai immaginati appunto questi due personaggi che in realtà si capiscono benissimo, ma poi la figa sono su due punti di vista... La cosa che mi intrigava moltissimo era di prendere due personaggi che erano stati, se vuoi, già descritti, però spingerli oltre il loro naturale limite e andare a scoprire delle cose che sono sorprendenti. Una di queste, per esempio, era proprio il rapporto fra i due, perché i due hanno un'evoluzione di rapporto che va dal noi lavoriamo insieme, siamo una splendida squadra, al forse io e te ci conosciamo da un sacco di tempo, quindi potrebbe esserci fra di noi un rapporto di amicizia, di vicinanza che va oltre a quello lavorativo. E poi dopo scopriamo che forse non è così, che uno dei due è la creatura dell'altro e quindi che non c'è una relazione umana, affettiva, ma c'è semplicemente il compiacimento di aver creato una perfetta macchina di morte e di distruzione. Quindi io trovavo che il racconto e soprattutto la dinamica del rapporto fra il personaggio che ho interpretato da Benissimo del Toro e quello di Josh Brolin fosse estremamente ricca e piena di spunti. Senti, invece, dal punto di vista dell'immaginario, il film ha dei momenti evidenti di fin di guerra, no? Cioè, nel senso, c'è questa reazione, c'è questo, per esempio, questo gruppo di blindati che attraversano il deserto, che siamo avanti all'Afghanistan, con la paura costante che arriva di qualcuno, l'attacco dall'alto, gli elicotteri, insomma. In che modo hai cercato appunto di lavorare con quel tipo di immaginario, no? Che è quello che comunque in qualche modo lo spettatore è su chi vive perché sa che qualcosa sta per accadere. Beh, ma quello è tutto quello che vedi nel film. È tutto ispirato, o comunque assolutamente realistico. È quel tipo di operazione, cioè quel trasferimento, diciamo, che avviene paraclandestinamente in un territorio che dovrebbe essere poi di un altro stato. È una cosa che succede. e l'ispirazione, questo poi me l'aveva raccontato Taylor Sheridan, per quella sequenza era proprio una storia vera che è successa in Iraq, dove avevano catturato un membro di un'organizzazione e l'hanno portato nel territorio rivale sotto forma di provocazione aspettandosi di essere attaccati perché così avrebbero potuto reagire e attaccare a loro volta. Quindi è anche lì, c'è una complessità del racconto che però affonda sempre le radici nel reale. E senti invece il ruolo di questo personaggio, questo barlume di umanità a un certo punto che è questa figlia del leader del cartello della droga che viene rapita, che in qualche modo poi diventa a suo malgrado quel barlume di umanità che in qualche modo, no? In realtà cambia i piani di tutti i personaggi. Ma sì, perché è anche il personaggio di Isabelle è un personaggio che è chiamato ad attraversare poi il suo confine. Quindi tutti i personaggi di soldato, devo dire, hanno degli archi narrativi sorprendenti e con un'evoluzione molto, 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 molto complessa. Lei è un personaggio fondamentale perché è quello che ti aiuta a raccontare il personaggio del Sicario, di Benicio del Toro, che è un uomo che sta inseguendo ormai da anni, ti puoi immaginare addirittura decenni, in cui sta inseguendo questo desiderio di vendetta, ma che ormai è un po' anche annegata, no? Nella consuetudine alla morte, immagina di tutti quello che ha vissuto come esperienza. Quindi oggi forse è un po' stanco. E l'idea stessa, che lui potesse avvertire una prima crepa, no? In questa cosa, l'armatura perfetta, impenetrabilità, venendo a contatto proprio con la figlia di quello che ha ordinato il massacro della sua di famiglia, arrivando a percepire lei quasi come sua figlia. Quindi comunque come una creatura innocente che andrebbe protetta e non importa da chi, mettendosi contro che cosa, trovo che fosse uno dei personaggi poi chiave del racconto.